ciao ragazzi un saluto dal tarfone come oggi c'è anche il carbuncle saluta carbo e allora questo qua è il nostro nuovo server in tutti i sensi abbiamo cambiato sia l'host che la mappa per cui nuovo nuovo abbiamo cambiato anche il pacchetto e adesso ci troviamo nel nuovo gruppo il geek o geek battery ok come va descritto max in descrizione va descritto max l'altro giorno nel video e la serie si chiama jump just another mod pack sì vabbè ho fatto saltare la parte iniziale dove ho cominciato a tirare su un po di materiali e altro perché è una gran rottura di coglioni pa 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 vediamo vediamo allora sì l'idea principale della serie è tra virgolette fare un tipo castello alla stronghold ok molto tipo molto molto castello e poi pian piano farlo evolvere aggiornarlo farlo diventare ultra mega tecnologico blablabla sono da solo nel senso che lo farò da solo non avrò compagnia salvo in determinati casi tipo non sei solo su ti esatto tipo mega mega iuti con noi c'è anche il babbone salutavo il tubo mappa buongiorno a tutti e come richiesto da max raiden e o berro e come richiesto da voi praticamente oggi è il 12 febbraio in questo modo sapete quando è stata fatta la registrazione e quando verrà fuori in questo modo potete seguire anche gli altri componenti del gruppo e vedete bene o male la velocità con cui andiamo avanti qua ci abbiamo un carbunkels ok ah sì c'è la mod dei capelli e come potete vedere purtroppo sì carb non è un santo ok e questo mio cellulare è invece come ma ba io sono a meno 95 più 147 aspetta che te lo scrivo un attimo solo ragazzi meno 95 più 147 abbiamo anche il signor ikimoto sul server cazzo stamattina ci siamo tutti praticamente ci siamo non organizzandoci ci siamo tutti va bene e che cazzo stavo a dire ah sì il tarfone vabbè io ho già ucciso un paio di cose che mi hanno droppato la cesta in glowstone e i boot in lapiscazzoli ma va bene così ho la maschera antigas che ci sta ci sta anche perché come avrete già notato ci sono queste bellissime lanternine che sono della glens gas e sono a me piacciono tantissimo e si ma vieni pure in ts nessun problema ok come si fanno queste lanterne allora ve la faccio vedere al volo serve un pezzo di iron io ne faccio tante perché mi servono ok un equivalente di pezzi di glass per cui uno e uno e vi da quattro lanterna noi ce ne da otto le lanterne sono senza torce ok vanno usate le torce per poterle dopo utilizzare ok rispondiamo a likimoto minchia ta carbo sta cominciando veramente a rompere le balle e piccola pecca di queste lanterne si rompono cioè se gli date un colpo si rompono potete togliere la torcia da dentro potete sbizzarirci un attimo però purtroppo si rompono allora come potete vedere ho già trovato un po' di roba che potrebbe servirci più avanti perché abbiamo cominciato ieri sera ieri sera abbiamo fatto niente dovevamo fare un intro con carb che purtroppo gli è saltata la corrente per cui è saltata allora ognuno sta facendo la propria intro ragazzi se volete parlare potete eh cioè ok e allora abbiamo trovato una cava di pietra della queried stone là c'è un ikimoto che non l'abbiamo trovato ma c'è dato le le coordinate ieri sera e la cava di pietra di grave praticamente la queried è chiara la grave è scura la cava di pietra di sapone che sarebbe la pietra pomice ok che è quella che utilizzeremo adesso per fare le fondamenta del dei nostri edifici eh là ci sono due pozzi di petrolio che non si sa mai e basta vabbè qua c'è a casa là c'è un'isoletta della tinker allora cominciamo 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 vabbè mi sono scraft... si scraftato mi sono craftato un paio di cesoie e un paio di... e un secchio ciao babba ciao e se ti serve qualcosa da mangiare piglia pure dalle ceste o altro giusto qualcosa da mangiare e poi ti sparisco per metà... ho già minato? no non ho minato cioè mi sono tirato su solo un po' di roba che non può servire si ok vi faccio vedere le ceste e... ho tirato su un po' di roba ma neanche tanta ok questo blocco qua è della carpenter praticamente vi faccio vedere come funziona ok e... si crafta in questo modo un cubetto di wood al centro gli stick attorno ne vengono fuori cinque per cui bene o male non è neanche eccessivo è fatto così se voi prendete un qualsiasi cubetto e glielo mettete dentro diventa così e dopo ve li rida tutti e due una volta che li rompete eh non funziona lo zoom della mappa beh... è di creare i tasti cambiare eh può essere di configurarti i tasti abbiamo appena cominciato ragazzi qui ci sono tutti quanti i lavori da fare e... questa è carne di squid ok che una mod ce le aggiunge visto che qua c'ho... eh... acqua ovunque ne vengono fuori tantissimi danno mezzo... mezzo... mezzo cosciotto per cui neanche tanto eh... questi sono fossili che non... facciamo mucca se ti interessa no no ma lasciamole vive che dopo le... 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 le prendo sì appunto sì sì ma so che ce ne sono qua in giro grazie mille papà e... ehm... questi sono fossili non so cosa servono forse per bellezza o altro questa è della... è la ciocopedia per i ciocobo penso e... questo è il petrolio della traincraft e questo è hollisend sempre della traincraft volendo si possono utilizzare come vedete al posto del... del carbone eh... il carbone normalmente cucina otto... eh... unità di qualsiasi roba li mettete dentro quelli lì mi pare che vanno a dieci o a dodici allora cominciamo da qua come potete vedere eh... la forma del castello è semplice è un rettangolo ok? con quattro torri ai lati e qua c'è il... verrà fuori il cancello l'idea è nelle torri eh... costruire una casa costruire un laboratorio alchemico e... costruire una smelteri ok? e costruire qualcosa di... di... di elettrico ingegneristico adesso vediamo insomma intanto facciamo i bordi del castello i bordi del castello saranno fatti così la base sarà tutta di queried ok? proprio di tutto quanto il castello questa qua che sarà la porta sarà fatta completamente con la base e i muri in queried sì scusate in queried in... pietra pomice che mi piace come colore qua vabbè abbiamo già una coltivazione eh... allora questi vabbè sono... ehm... cotone questo invece è eh... il grano quello tipo nuovo questi invece sono della witchery eh... questa è la mandragore bella donna water artichoc non so cosa cavolo sia questa è la spargi d'acqua vabbè e questa è la g-shell stem che non so cosa cavolo sia della torojimas chococraft boh saranno quelle cose schifose che non servono per nutrirsi ma va bene anche così come al solito sono andato un po' in giro ho preso un bel po' di di berry e me le sono messe tra virgolette a difesa poi le porteremo dentro una volta che abbiamo fatto il muro allora swap swap questa è dacite che vi faccio vedere anche il colore della dacite è un po' più scuretto adesso vabbè sono anche senza attrezzi perché li ho rotti tutti tatata intanto questa sarà la base poi pian piano che andiamo avanti vi faccio vedere le varie cose sono sempre aperto come ben sapete a consigli o altro aspettate che mi faccio il piccone che mi serve a consigli o altro sia a livello estetico sia a livello di qualsiasi cosa per sistemare la mappa a sistemare il castello a i vari tipi di roccia ok sono della underground biome lo si trova in giro e possono droppare o la cobblestone ok oppure possono droppare direttamente la stone per creare la cobblestone vanilla basta mettere quattro cubetti di cobblestone adesso vi faccio vedere così ok vi fa la cobblestone vanilla in quantità uguale ai cubetti che mettete dentro per cui non si perde nulla ok ok si sarà abbastanza simmetrico ragazzi però a me le cose simmetriche piacciono abbastanza ta 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 poi non so se carb e mappa vogliono fare un semi spoiler di quello che vogliono fare loro registra va bene ciao ma buone oh piccalti io non so ancora cosa fare quello è il primo nemmeno io sapevo ancora cosa facevo ma vabbè ho detto questa cosa qua mi piace i castelli mi piacciono facciamo una via di mezzo allora vediamo le torri e le faccio per la loro altezza per ora sarà solo questa poi chi lo sa le faccio le faccio piene nel senso come se fossero fatte completamente di stone la l'unica sfiga che abbiamo è che la cava di query è distantissima o meglio è a 400 cubetti da qua dovrei averne altra nelle ceste se non erro ok non ti ho guardato non ti ho guardato fermo lì acucia allora poi ovviamente apriremo in modo da fare entrare più luce vero c'è intanto la bozza allora vediamo vediamo come viene fuori utilizzando questo si poi devo sistemare anche le ceste lo so o swap ne abbiamo ancora perfetto track si ho un po' di lana sono andato in giro quando cercavo le varie cose che mi interessavano e tutte le pecore che ho trovato ho detto mie allora vediamo che in teoria qua poi ci va la porta ci mettiamo la porticina vediamo un attimo no no la facciamo così via mi piace di più così uh è venuto a trovarci che era ciao aspetta aspettate un attimo dai qua su sul letto là che così sta bella tranquilla e non rompiamo più di tanto le scatole allora finiamo i bordi che poi mettiamo giù anche le lanterne le lanterne non fanno molta luce eh perchè schermano la la torcia sono un po' più piccole come range però sono molto carine a me piacciono hanno appunto quella pecca lì che si rompono calma forse nel config ci si può smanettare nella glin eh eh per fare in modo che non non si rompano oltre all'aspettante ma perchè sapete va bene tutto però mi sarebbe un po' sulle scatole dover continuamente rifarle anche perchè è vero ne facciamo tante ma costicchiano allora intanto mettiamone un'altra qua ciao ciao tubo e tu saluta il tubo mio vabbè l'enderman ha deciso di stabilirsi qua da noi ma va bene così no non c'è niente non c'è niente vabbè ecco c'ho Kira che vuole uscire di nuovo è la quarta volta di oggi e sono appena le undici e mezza siamo usciti alle sette e mezza alle otto e mezza no alle otto alle otto e mezza eh si saluta il tubo anche tu vediamo se riesco a farlo abbaiare saluta il tubo dai saluta il tubo no niente no è che c'ha deve uscire minchia non è un cane è un pisciatoio no vabbè che è ancora cucciola per cui beve sono come i bambini hanno il tubo diretto bevono e fanno pipì mangiano e fanno la cacca eh vabbè ok allora una semiparvenza di castello l'abbiamo dato chiudiamola definitivamente anche qua che vediamo come viene fuori oh no manca tutta questa da fare ancora ne ho saltata una non so il perché è carb che mi distrae colpa sua ok allora vediamo vediamo se intanto noi abbiamo ufficialmente un enderman come vicino ha deciso di stabilirsi qua a carb vabbè comodo due nevi sul servo ma dio non lo so eh eccolo allora il mio capo mi sta si buongiorno altro sbadiglio allora il mio capo mi sta intimando che deve andare urgentemente al bagno sì 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 per cui finiamo il castello e poi stacco o mi sa che stacco prima mi sa che qua il capo non resiste più eh vabbè dai ragazzi allora per questo episodio è tutto salutiamo il carb che ci ha fatto compagnia ciao a tutti compagnia si fa per dire ha detto due stronzate come al suo solito e poi basta aspettiamo il saluto di Maba e Ikki se salutano se no chi se ne frega e li mandiamo a quel paese 3 2 1 ok ce ne freghiamo e li mandiamo a quel paese ok dai Ikki ha risposto e se vi è piaciuto il video mettete un mi piace in descrizione troverete i canali di tutti gli stronzi che giocheranno su sul jump e che fanno parte della jeek battery e andate a iscrivervi da tutti disiscrivetevi da carb dopo iscrivetevi anche seguitelo dai e mettete un mi piace ai video che così i feed si aggiornano e ci potete vedere ci potete seguire tranquillamente spero che vi divertiate con noi come ci divertiamo noi con voi e noi con noi perché bene o male non saremo qua assieme a giocare e e e e e e e e e